buonasera siamo con fabrizio sbardella coordinatore provinciale di varese l'italia unica quali sono le vostre iniziative in programma l'italia unica è nata un anno fa si è costituita il 31 gennaio del 2015 quindi adesso andremo a festeggiare il nostro primo compleanno e lo faremo con un grandissimo evento a milano in piazza vetra teatro vetra in cui cercheremo di unire tutti gli amici tutti i sostenitori anche coloro che semplicemente sono curiosi e vogliono saperne di più ecco e quali sono i temi più importanti per la vostra campagna elettorale ma temi importanti sono lavoro sono la sicurezza sono sono le due istanze che maggiormente vengono presenza dei cittadini il lavoro a tutti i costi perché se non se non riparte il lavoro non riparte nulla il lavoro è l'elemento fondamentale e la sicurezza altrettanto perché quando il cittadino si sente sicuro e ha il lavoro tutto può rinascere tutto può ricominciare va bene grazie davanti se prese grazie a tutti grazie a tutti